Sono quattro le scuole biellesi che riceveranno i contributi dell'assessorato regionale all'istruzione per la promozione dello sport attraverso gite in montagna e iniziative dedicate sui territori. Si tratta della scuola di Valdilana Pettinengo, della scuola di Valdengo, quella di Prai e quella di Cavaglià. Perché il benessere e la salute a scuola passano anche attraverso l'attività motoria, commenta l'assessore regionale all'istruzione Elena Chiorino. Attraverso questo bando si è voluto incentivare le scuole ad organizzare attività ludiche, attività sportive fuori dalle classi. Purtroppo l'attività motoria a scuola è ancora considerata la cenerentola delle materie, quando a mio avviso dovrebbe essere potenziata. Il contributo regionale complessivo monta a 195.000 euro. Due saranno le linee di intervento, ovvero sport di montagna attraverso l'organizzazione di una giornata dedicata e promozione di iniziative a carattere sportivo.